Atten, batte il tempo, Atten, blocco di Gillisward, Atten, 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 per Gillisward, Gillisward va a depositare 79, 81 Non molla, non molla Brindisi, 7 secondi, fallo in attacco, fallo in attacco, che ha fischiato l'arbitro 6 secondi, fallo in attacco, ma non ci sono i due tiri con lo sfondamento, dovrebbe essere rimessa Non proprio fallo in attacco, in ogni modo Smarcamento, in ogni modo a 7 secondi, Brindisi può gestire il pallone della parità Incredibile basket, incredibile palacadestro Chi ha pensato che Brindisi non avrebbe mai avuto la possibilità di riavvicinarsi alla Cimberio Viene clamorosamente smettito da questa situazione, Francesco Sì, due punti a recuperare, Gillisward, 5 secondi, Atten, il pallone è lui, Atten contro Gergati Atten, prova la conclusione, la tripla, la tripla, la tripla, la tripla, Marcus Atten Che cosa fa Marcus Atten? Marcus Atten Che fa? Dal cilindro, tira la magia, tira fuori la magia, 82 Brindisi Eccola, eccola Francesco nel nostro replay C'è il time out, io non ho veramente parole incredibili Follia allo stato puro questo giocatore, Follia, guarda che ha fatto Due palleggi, ha sfruttato il blocco, la conclusione da 8 metri Arriva Ritati, Gergati non vuole commettere fallo Il movimento pulitissimo, un punto di vantaggio per Brindisi E vola di tutto, in campo il pubblico non è d'accordo Probabilmente ciò che ha scatenato queste proteste è stato il fallo Il fallo, il fallo fischiato a Nicabazze naturalmente Antonio c'era, il fallo c'era Un secondo 23 da giocare Il tempo parte nel momento in cui il giocatore riceve il pallone sulla rimessa Devono stare tranquilli i biancazzurri Non toccare nessuno, Cildres è per lui la palla, un palleggio Suona la sirena Canestro non convalidato Era arrivato il suono della sirena prima Canestro non dovrebbe essere convalidato Vediamo un pochettino gli arbitri che fanno Va a parlare l'arbitro 83-82 La sirena, il suono della sirena è arrivato sul tiro del giocatore Se Alessio riusciamo a rivedere l'esecuzione Il canestro è arrivato sul suono della sirena Il canestro è arrivato Vediamo, il tempo era scaduto Il tiro Il tempo era scaduto Per quanto mi riguarda Il tempo era scaduto